Questo clan sono anni che fa il bello e il cattivo tempo a Ostia. Si sono impossessati di tutto. Ristoranti, bar, pizzerie, autolavaggi, tutto. Il mare che è l'oro di Ostia. È tutta roba loro. E quindi? Che vuoi? Fammi fare questa inchiesta. Purtroppo, l'unica persona che ha ricostruito la scena del crimine è lei, signora Angeli. Io ho paura, Federì. Ho paura. Qua si fa callo, si fa freddo. Lo decidiamo noi. Da questo momento in poi ti verrà assegnata una scorta. Le sarà vietato muoversi se non accompagnata almeno da voi carabinieri. Quindi darete una scorta anche per i nostri bambini? Mi dispiace. Per i minori la scorta non è prevista. Se io adesso faccio una telefonata, chi dico io? Tu non lavori più. Fede, fatti gli affari tuoi, è meglio per tutti. Giornalista di Ostia, io te levo la serenità dentro casa. Sono Federica Angeli, che mi manda il giornale per cui lavoro. Giornalista di Ostia, io te levo la scorta. Non è vero. No. 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 Grazie a tutti.